Bravo! Invece gli altri tre premi, secondo, terzo e quarto, sono tutti uguali a questo, cambia soltanto la dicitura del numero della squadra, secondo, terzo, quarto e basta. Ed è il logo di Rugby Division, ridotto del 50% rispetto alle dimensioni del manifesto ed è fatto con la stessa tecnica con cui è fatto il primo premio, perché questo si chiama scultura a mettere, perché c'è la scultura a levare e la scultura a mettere, col metodo modulare, così si chiama. È fatto in legno di pioppo che non è trattato chimicamente, perché le parti scure che voi vedete sono state annerite con la fiamma e le scritte sono state fatte col pirografo, quindi sempre a calore. Se viene conservato in un luogo asciutto, chiuso, questo, fra 50 anni, io mi auguro che ci troviamo tutti quanti un'altra volta, lo vedremo solo sicuramente ingiallito e basta. Né ci saranno crimini, né ci sarà altro che lo potrà distruggere. Bellissimo, bravo. Grazie. 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 Campobasso. Campobasso. Vai. 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 Santeramo. Grazie. 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 Prendi la scatola. Adesso però, adesso un attimo, perché c'è anche Giovanni che deve darci il mio futuro. e per un ringraziamento di questa giornata. Anche lui? Un volovo? Sì. Anche lui? Un belline. Sì. Unignor. Lui è un appogcato. Era un'ostana di aventi. È un becciera, un carino. È un calendario affomentoso Night. E' un po' tornato. Il nostro capitano è riservato al capitano della squadra Quattro Mello. Capitano, il nostro capitano è Vito. E' un libro che ha come sfondo... Grazie, bravo. Grazie, bravo. Grazie, bravo. Grazie, bravo. Per ogni responsabile del Capitano delle Quattro Mello. Questo è un omaggio del nostro ricamato Capitano di Squaglierino. Grazie. Carmine! Carmine! E' un ingordo! Carmine! Grazie! Applausi! Philiano. grazie vai è il suo tempo scusami chi sta dietro? simbio guarda le case il capitano è tant'è è un simbio di mano non ho capito che cos'è eh no lo so simbio che è lungo poi lui finita la mia lancia escilo piano piano te l'ho scollato ma questo non rimane a te no quello no va alla sede alla sede no ma vedete pure il punto ah quindi rimane alla casa dell'allone alla sede dall'altro ah è quasi ah è bello e va nella sede avete una sede? anche sull'allone sei contentissimo siamo contenti siamo contenti siamo contenti grazie di tutto grazie di tutto vieni sto aspettando beh state attenti conservate per breve è il nostro capitano signor di mano molto conosciuto sempre bello molto bello anche perchè è il figlio è il figlio di? di Milano è il presidente del regno è il presidente del regno è il prossimo è un plasola a Milano è un plasola a Milano mettetelo nel cartone grazie è un plasola a Marcuccio adesso chiudo classico classico campionato grazie ciao ciao com'è il santo scottolo stiamo organizzando grazie 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 grazie